Ragazzi, attenzione, sentite qua cosa ha detto Triple H nella conferenza stampa post-backlash. Come vi ho detto, questa non sarà la nostra ultima volta in Francia, ma da quello che ho sentito durante il tour degli ultimi giorni, Italy, in Italia, l'atmosfera è stata pazzesca, quite crazy. Quando tornerò a casa, guarderò, verificherò la possibilità di fare qualcosa in Italia. Bomba! Bomba! E poi Triple H parla del desiderio di tutti i mercati internazionali di avere un evento della WWE, ma ragazzi, Cody Rhodes non mentiva! A Triple H la notizia è arrivata! Chi ha seguito le mie indicazioni di qualche mese fa, che hanno in parte, non voglio prendermi meriti non miei, azionato dei meccanismi, ora deve sentirsi dieci volte orgoglioso, cento volte orgoglioso, mille volte orgoglioso. Da quel fiume piccolo, non abbiamo ancora nulla di sicuro, potrebbe formarsi un oceano, la WWE in Italia, con un evento grosso, ci pensate? Magari, eh?